Il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza ha disposto l'esecuzione di un piano straordinario di interventi per prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione, dell'abusivismo commerciale e altre correlate forme di legalità. Il piano di interventi ha interessato l'intero territorio regionale. L'operazione ha registrato l'esecuzione di 116 interventi, nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 1.200.000 articoli con la denuncia di 41 persone. Dall'inizio dell'anno sono oltre 5 milioni i prodotti sequestrati dalle fiamme gialle. L'attività ispettiva ha consentito di individuare, nell'area sud-est barese, una stamperia clandestina dedita alla produzione di lucidi riportanti noti marchi contraffatti, pronti per essere applicati sui capi di abbigliamento, nonché di sottrare dal mercato dell'area leccese un ingente quantitativo di giocattoli, bigiotterie ed accessori di moda pericolosi per la salute. A conferma del ruolo di centralità del corpo nello specifico comparto operativo, si evidenzia l'utilizzo del portale SIAC, sistema informativo anti-contraffazione della Guardia di Finanza, progetto cofinanziato dalla Commissione europea e affidato dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza, la cui struttura operativa è stata dislocata proprio nella sede di Bari. La piattaforma tecnologica consente un'attività di analisi e controllo in tema di contrasto e lotta alla contraffazione, realizzata mediante applicativi che assolvono funzioni informative per i consumatori, di collaborazioni tra le istituzioni e le aziende, nonché di cooperazioni tra gli attori istituzionali.